A coltellato per un telefone e un portafoglio è successo a Milano in via Ruggero Boscovich tra la stazione centrale Corso Buenos Aires nella notte tra lunedì e martedì quando un uomo di 30 anni egiziano è stato rapinato da due malviventi. Secondo la ricostruzione della vittima che ha raccontato l'aggressione agli agenti giunti sul posto l'uomo sarebbe stato raggiunto poco prima delle 4 del mattino da due individui probabilmente nordafricani. Gli aggressori una volta avvicinatisi all'egiziano gli avrebbero sferrato una pugnalata all'addome per poi sottrargli il portafoglio e il cellulare e darsi alla fuga. Dopo l'aggressione l'uomo è stato subito soccorso da un'ambulanza e da un'automedica del 118 per poi essere trasportato al pronto soccorso del policlinico in codice giallo. L'uomo nonostante le condizioni serie non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Intanto gli agenti continuano le indagini per cercare di rintracciare i due rapinatori che al momento hanno fatto perdere le proprie tracce.